Nel Dipartimento di Chimica e Farmacia sono incardinati tre corsi di studio, il corso di laurea in chimica triennale con possibilità di un successivo corso magistrale in scienze chimiche biennale e due corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell'area sanitaria in farmacia e chimica e tecnologie farmaceutiche. Tutti i corsi offrono percorsi formativi completi che si sviluppano in strutture a misura di studente come quella che vedete con un ideale rapporto numerico studenti docenti e caratterizzata da una pressoché totale residenzialità del corpo docente. Qui lo studente viene inserito in contesti didattici a lui familiari e seguito passo per passo nella sua crescita scientifica che avviene ben presto a stretto contatto con gruppi che operano in contesti fortemente internazionalizzati. Per l'accesso ai corsi di studio del Dipartimento di Chimica e Farmacia è prevista una prova di ammissione per 60 posti. I requisiti richiesti agli iscrivendi sono una buona conoscenza delle nozioni di base di matematica, fisica, chimica, biologia e cultura generale, mentre per quelli in chimica sono richieste conoscenze e abilità logico-matematiche di base. Il corso di laurea in chimica ha durata triennale. Il laureato in chimica ha accesso diretto alla laurea magistrale, può svolgere la libera professione o lavorare nel campo dell'industria e in enti pubblici. Il corso di laurea magistrale in scienze chimiche è della durata di due anni. Il laureato magistrale può proseguire con un dottorato di ricerca, svolgere la libera professione o lavorare nel campo dell'industria e in enti pubblici. Il corso di laurea magistrale in farmacia, della durata di cinque anni, prevede sei mesi di tirocinio professionale, prepara esperti del farmaco, dei prodotti della salute, che possono lavorare in farmacia e nel campo dell'informazione scientifica del farmaco. Il corso di laurea magistrale in CTF ha la durata di cinque anni con sei mesi di tirocinio professionale e prepara, oltre alla professione del farmacista, esperti nella progettazione e sintesi del farmaco, con sbocchi occupazionali nelle industrie farmaceutiche. Abbiamo incendivi economici per i migliori studenti e l'internazionalizzazione del percorso formativo tramite il programma Erasmus. Questi vogliono essere di ulteriore stimolo per i nostri migliori studenti proiettati verso l'eccellenza in prospettiva di carriere lavorative di sicuro interesse sia in Italia che all'estero, in particolare in contesti di tipo non esclusivamente o non necessariamente chimico-farmaceutico. Le lauree del Dipartimento di Chimica e Farmacia creano infatti figure professionali flessibili, naturalmente inclini ad adattarsi al continuo mutamento dell'esigenza del mondo del lavoro. I laureati magistrali del Dipartimento di Chimica e Farmacia hanno, se candidati al malauria, le più elevate percentuali di successo occupazionale nel primo anno dalla laurea. Infine, per i nostri studenti è possibile completare l'alta formazione attraverso la frequentazione di un dottorato di ricerca aperto ai più meritevoli. Grazie.